Il 31 gennaio, in occasione dell'anniversario di matrimonio di Agnolo e Maddalena Doni, gli Uffizi celebrano la giornata a un San Valentino in anticipo con una serie di iniziative. Sì, Firenze spesso nella storia era in anticipo del resto del mondo, così siamo anche quest'anno. Dopo il grande successo della festa dei Doni, il 31 gennaio dell'anno scorso, ripetiamo e ampliamo l'iniziativa. Cioè di nuovo l'ingresso con un solo biglietto per ogni coppia, quindi 50% di sconto. Ma quest'anno andiamo oltre per celebrare il legame di coppia. Quest'anno infatti apriamo fino alle 9 di sera, quindi opportunità anche per venire a vedere il museo al buio, in un momento quindi molto più romantico, magari prendersi un bicchiere sulla terrazza degli Uffizi. Poi abbiamo delle visi guidate in tema amoroso, poi abbiamo anche la danza, la musica, con sempre dei soggetti di amore, celebrazione della coppia. Quindi tutte le coppie sono invitate a venire il 31 gennaio e infatti sono benvenuti qui davanti in onore di Angelo Doni e Maddalena Doni Neestrozzi, che erano gli unici a commissionare opere d'arte a parte del Papa sia a Raffaello che anche a Michelangelo. Questa è la loro importanza, i loro capolavori sono uniti qui negli Uffizi e quindi proprio qui si celebrano l'arte e l'amore.